via. Alessandra Salamide qua al Teatro Greco di Siracusa con un'interpretazione di Fedra. Già che si recita Fedra, difficile. Difficile ma molto emozionante perché devo dire che era uno dei personaggi a cui sono più legata nella mia vita perché un primo esame universitario l'avevo fatto su tutte le versioni di Fedra quindi difficile cercare di comprendere come portare all'oggi perché è un personaggio controverso visto che alla fine per risentimento probabilmente lascia un'accusa falsa contro Ippolito e questo che la mette in una luce in un'ombra però per portarla a me riuscire a portarla allo spettatore d'oggi ho pensato di concentrarmi su cosa possa significare la follia d'amore e l'ossessione. Infatti è una storia di follia d'amore così con l'intervento delle divinità che nelle tragedie greche è sempre presente per cui diciamo a discolpa probabilmente non soltanto per volontà di Fedra ma anche di volontà delle divinità il che è assolutamente moderno se vogliamo se portiamo la storia inversa con il discorso della violenza e delle false accuse. Assolutamente perché diciamo che è in questo caso la divinità che poi causa tutta questa rovina e Afrodite che si serve di Fedra come strumento di punizione nei confronti di Ippolito quindi questa follia viene instillata da Afrodite perciò Fedra non è colpevole di questo ma anche riguardo la colpevolezza c'è sempre un'ombra nel senso che Fedra incarna una colpa tavica che è quella della madre Pasifai che si era unita a un toro quindi è come se portasse in sé un po' il seme della colpa di aver violato la naturalità, la naturalezza dell'amore. Però Afrodite ecco instilla lei questa passione e sempre penso che un po' l'essenza tragica è scegliere liberamente ciò che necessariamente avviene quindi si sceglie di incarnare in sé questa passione e forse della passione non è colpevole ma c'è un margine di responsabilità che è cosa fare per contrastare ciò di cui non si è colpevoli. E difatti un grande tema è quella della scelta c'è una scelta del bene una scelta del male lì è la scelta. Sì infatti nel monologo in cui poi riflette dice noi vediamo e conosciamo il bene ma non ci sforziamo di farlo. Alcuni per pigrizi e altri perché antepongono qualche piacere e questo per me è un nucleo importante del personaggio di Fedra perché tutti noi, e in questo si avvicina ognuno di noi, tutti noi spesso sappiamo cosa è bene ma non riusciamo a portarlo a termine. In questo caso io credo che lei cerchi in ogni modo di resistere a questa passione di non cedere soprattutto per non consegnare i figli al disonore ma c'è qualcosa di più forte di noi che non riusciamo a sopprimere. E quando la verità viene a galla lì succede la tragedia. E anche in questo lei fino all'ultimo cerca di resistere a questa verità infatti la tragedia iniziale soprattutto fatta di non detti, di silenzi e cede confessando il suo amore solo di fronte alla supplica della nutrice. Ricordiamo che la supplica nel mondo greco era un atto importante quindi forse se non ci fosse stata questa supplica sarebbe riuscita a trattenere questo segreto e a salvarsi. Ecco il rapporto con la nutrice in effetti che è un nodo cruciale di tutta la tragedia. Sì in questa tragedia secondo me è particolare come abbiamo parlato anche con la nutrice spesso viene consegnata al pubblico una visione di un rapporto con una nutrice materna. In questo caso è più vicina anche la nutrice a una donna. Quello che consegna non è tanto questo tentativo di protezione nei confronti di Fedra ma questo suggerimento di amare, di avere il coraggio di amare in questo e contemporanea anche la visione della nutrice in questo spettacolo. E è lei che fondamentalmente, non dico fa uccidere Ippolito, però non confessando o non dicendo quello che effettivamente è successo praticamente gli segna il destino. Sì diciamo che la colpa della nutrice è un pochino seguire quello che era bene per lei e quindi confessare questa cosa a Ippolito come se potesse poi andare verso un esito di un altro tipo e quindi il suo sbaglio è quello di seguire il proprio istinto e di non seguire la richiesta di Fedra. E nello stesso tempo, e questo lo trovo molto umano, della cosa con cui fare i conti magari come interprete, il fatto che Fedra prima di uccidersi accusi Ippolito, questo lo trovo anche qui molto vicino a quello che può capitare a noi oggi, il risentimento nei confronti di un rifiuto spinge magari a dire parole che non si sa prima quale rovina possano portare. Sono due rifiuti alla fine, perché i due personaggi, sia Fedra che Ippolito, vivono in due mondi quasi separati. Sì, c'è una cosa infatti in comune, secondo me Ippolito, in questa dedizione rispetto al mondo della caccia. In un certo senso è come se abbraccia il mondo della madre, che era un'amazzone, un po' in contrasto al mondo del padre che dopo tutto aveva rifiutato la propria madre per Fedra. E quindi vediamo una sorta di devozione per Artemide, che è la stessa devozione che Fedra, in modo diverso, ha per l'amore. E non dimentichiamo che Fedra significa luminosa, quindi entrambi cercano forse una luce che poi però li porta alla rovina. Grazie. Grazie mille. Grazie.